Dottor Bianco, pensa che ora siamo sulla strada per realizzare una vasta riqualificazione urbana? Noi siamo convinti che ci siano oggi tutte le condizioni per accelerare sui progetti di efficienza energetico destinati alla riqualificazione degli edifici e quindi alla riqualificazione urbana. Siamo talmente tanto convinti che abbiamo nel nostro piano industriale 100 milioni di investimento dedicati a questo tipo di interventi e abbiamo già fatto molte attività, abbiamo già fatto odite energetici che sono la base sulla quale costruire i progetti di efficientamento. Quindi oggi ci sono le condizioni, ci sono le imprese come IREN che vogliono investire in questi progetti e speriamo ci sia un'ampia adesione da parte dei condomini e dei proprietari degli immobili verso questi progetti.